Allora, hai sentito ieri sera cosa ha detto il tuo compaesano Morgan De Santis? Ha avuto l'opportunità di esordire in Serie B, che sta facendo bene il suo lavoro, un ragazzo sano, educato, come spesso vengono fuori dalle parti mie. Quindi a lui gli auguro soprattutto, senza nessunissimo tono polemico, di essere apprezzato in questo momento quando giochiamo al Pescale, di non aspettare magari come è stato per me, di dover andare via, di aver passato magari più tempo per poi essere apprezzato. No, non l'ho sentito dal vivo, però ho letto sui giornali che ha parlato di me, sono molto felice di quello che ha detto. Spero di continuare a fare bene e a far sentire parlare ancora di me a lungo, speriamo. Ha detto Morgan che da guardia greta, da quelle parti lì vengono fuori ragazzi seri, tu lo sei un ragazzo serio, si vede alla faccia. Questo non sta a me dirlo, però se l'ha detto Morgan è una persona bravissima e spero di continuare sulle sue orme. Senti, ci sei ritrovato catapultato a giocare in B, addirittura da titolare, com'è? E' bellissimo giocare all'Adriatico, però la prima da titolare, l'emozione è grande, però ho fatto bene, ero tranquillo, i compagni e il mister mi hanno dato tutti i mezzi a disposizione per far bene, mi sembra di aver fatto abbastanza bene. Anche le critiche sono state positive, hai letto un po' di voti sui giornali? Sì, non mi interessano tanti voti, l'importante è essere apprezzati penso dall'allenatore, la cosa più importante è l'autocritica, quella del giocatore stesso, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto. Zeman anche ti ha fatto i complimenti, ha detto che dimostri grande personalità. Sono contento, io cerco sempre di dare il massimo in tutte le partite, negli allenamenti e spero che questa mia caratteristica venga apprezzata dal mister. Adesso ti aspetti di continuare a giocare a Brescia? Magari, però se dovesse fare altre scelte mi accontento della panchina, almeno di una convocazione, non c'è problema, rispettiamo le scelte del mister.